E' stato molto interessante e vorrei rimanere di più, seguirò ancora Marta, ero già ieri a Sestri, ma io per queste primarie che non avrei voluto sinceramente fare, sono d'accordo con lui, non ne vedo una necessità perché le cose fatte, io parlo anche per noi disabili, sono veramente state tante, quindi non vedo, poi ci sono dei lati oscuri come ha detto il compagno più dietro, è vero, però comunque sia si sbaglia, tutti, non si può fare tutto bene, questo mi pare ovvio, ma comunque la si pensi, io nel centro storico dico questo, la sua immagine purtroppo rispetto ad altri candidati non è sui media come dovrebbe essere, questo mi scoccia parecchio, perché io vedo purtroppo che gli altri ci sono e come, lasciamo perdere il discorso che si chiamano anche loro del PD, ma comunque la si pensi, poi alla fine si voterà per Marta Vincenzo, questo è il motto che io porto per cui rimane, punto e a punto.